Giorni insieme a me La classifica finale della sezione artigrafica 2020 per la non edizione del premio internazionale 8 milioni è stata composta attraverso una libera votazione effettuata su un sito web più i voti espressi da quattro differenti giurie Il totale dei voti espressi è stato di 535 e questo è il risultato finale La classifica finale della sezione artigrafica 2020 della non edizione del premio internazionale 8 milioni 2020 ideato da Bruno Mancini ed organizzato dall'associazione culturale da Ischia L'Arte di Ila con la collaborazione della casa editrice Il Sextante di Maria Pia Ciaghi della testata giornalistica Il Dispare di Gaetano Di Meglio dell'associazione algerina Ada di Dalida Buschalfa è la seguente Quinto premio Codice Art 02 Sergei Kirishenko Voti 20 Complimenti a tutti i finalisti Tenerezze e baci E ti gingillo i ricciolini Mentre è giunta ormai l'oscurità Complimenti a tutti Bravissimi Tu, tu mi inviterai In fine mia Al brivido più lungo Nel più bel sogno Del nostro mondo Nella realtà Grazie a tutti